Per tutti gli appassionati domani sera 17 novembre alle 21.15 al Cinema Masetti di Fano potremo vedere l'anteprima regionale del film L'Infinito, l'universo di Luigi Ghirri, realizzato dal regista bolognese Matteo Parisini e recentemente presentato al Festival del Cinema di Roma. Un film molto bello ed interessante dove Ghirri parla in prima persona e si racconta come uomo e come artista. Nell'antisale del Cinema Masetti si può vedere una mostra di libri originali che riguardano Luigi Ghirri realizzata dall'archivio di Centrale Fotografia.